Ciao, benvenuti in questo video. Questo che stai vedendo è uno Scania R650 XT, mezzo d'opera, nuovissimo, dove ho appena terminato l'installazione dell'impianto CV. Voglio vedere insieme a te cosa ho fatto e cosa è possibile fare anche sul tuo mezzo, sia con un'installazione fai da te, inviandoti il materiale o venendo direttamente qua. Come prima fase ho fatto l'installazione di questa staffa, una staffa in acciaio inox specifica per questo tipo di mezzo, una staffa by track point, dove viene fissata per mezzo di questi due rivetti alla battuta porta e dopodiché ho messo l'antenna power by track point, un'antenna dalle caratteristiche particolari, ovvero sia 1,60 m di altezza, 800 W di potenza, massima flessibilità, caratteristica notevolmente, come vedi, vantaggiosa per un mezzo di questo genere o altro mezzo e, cosa più importante, pretarata. Cosa significa? Che una volta installata è già perfettamente funzionante. Questo è un notevole vantaggio, in modo particolare, se non sei particolarmente esperto e fai un'installazione fai da te. Fatto questo ho fatto passare il cavo qua, alzando la guarnizione senza praticare nessun foro e ho terminato con l'installazione di questo fantastico Alan 48, un nuovissimo modificato a 20 va e con un piccolo restyling della mascherina con la mascherina cromata by track point. Io sono Umberto CB dalla provincia di Cremona e mi occupo da 29 anni di installazioni, riparazioni, modifiche di baracchini, i cosiddetti cibi, su camion, auto, fuoristrada, camper e mezzi. Se anche tu sei un possessore di un mezzo come questo o come quelli che ti ho appena elencato e sei interessato a fare l'impianto o spedirti il materiale, lo spediamo in tutta Italia, beh, non esitare, chiama ora i numeri qua in sovrimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di Whatsapp. Sarà un piacere darti ulteriori informazioni a riguardo. Da Umberto CB by track point ci vediamo al prossimo video.